buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di fano tv oggi giovedì 8 di ottobre 2020 questa è fano tv canale 17 e adesso inizia la rassegna con la lettura dei titoli delle notizie più importanti abbiamo selezionato anche oggi le pagine dei quotidiani che come sempre trovate in edicola il carlino e il corio adriatico prima però il santo e poi il tempo vediamo il santo di oggi oggi è santugo andiamo a genova il sole sorgerà alle 7 e un quarto tramonterà alle 18 e 41 vediamo il tempo il bollettino della protezione civile delle marche per oggi prevede cielo sereno un poco nuvoloso le temperature insensibile diminuzione nei valori minimi quelle della notte infatti questa mattina alle 5 e 5 e mezzo per chi si è alzato presto al mattino insomma erano 12 gradi almeno qui sulla costa per la giornata di domani venerdì 9 ottobre cielo un po' nuvoloso con temperatura in lieve aumento anche nei valori massimi sabato 10 ottobre invece ancora inizialmente nuvoloso la mattinata poi graduale aumento della copertura anche il pomeriggio le temperature stazionari oppure il lieve aumento improbabile peggioramento dalla giornata di domenica e nei primi giorni della prossima settimana e adesso apriamo i giornali cominciamo dal resto del carino prima pagina la fotonotizia è per il governatore acquaroli che ad una trasmissione televisiva ha detto io l'app immuni non la scarico non ci penso nemmeno no grazie tanto se non la usano tutti non serve a nulla vedremo tra poco i dettagli positivo nello staff la vis slitta rinviata stasera la partita di calcio con il Ravenna dopo che era emerso un caso tra i biancorossi è accusato di tentato omicidio coltellate alla festa arrestato uno studente riminese poi è stato trovato il 21enne Kevin qualcuno se lo ricorderà scomparso da Urbino è stato ritrovato ad Hannover e poi da sempre dalla prima pagina di spalla il nodo degli studenti che si recano a scuola distanziati sì nelle aule ma ammassati negli autobus la curva che preoccupa invece boom di contagi le marche ripiombano ai numeri di marzo ma la situazione ancora è sotto controllo non mettiamoci troppo a paura pressioni per togliere la multa al figlio condannato l'ex questore due anni a laureola capo dei vigili a pesero bando da rifare che pasticcio candidati rimandati a casa sotto lo sport qui con magnifico basket troveremo gli equilibri WL la fiducia di Walter magnifico sul gruppo la cura dei dettagli va estesa sui 40 minuti e poi il calcio ha giocato il Fano sfiora l'impresa in casa del Carpi il Granata vicino al colpaccio colpaccio esterno e il terzo punto nelle prime tre partite ha sempre pareggiato quindi un punto sempre comunque messo nel cassaforte andiamo a vedere il Corriere Adriatico l'apertura dell'edizione di Pesero area vasta c'è l'accordo titolo revocato lo stato di agitazione del personale decisivo il confronto in prefettura con i sindacati a novembre una busta paga dunque più pesante sul premio Covid invece l'impegno a ripartire l'eventuale fondo mentre test rapidi la buona notizia anche negli studi pediatrici per velocizzare il percorso scuola mentre la resa dei conti nel Partito Democratico che è adesso nel guado sul futuro ora decide la direzione sciopero alla cefla si teme la cessione del ramo d'azienda a Pesero e poi sei siti ora valutati per il biodigestore gelo tra Marche Multiservizi e Aset influenza 421 mila dosi di vaccino ma non bastano il Fano prima spreca poi resiste al Carpi 0-0 il Granata falliscono troppe occasioni per segnare nella ripresa e subiscono gli Emiliani finisce comunque pari nella visse spunta un falso positivo a Ravenna quindi si gioca stasera boom di contagi ora sono mille in più in tutta Italia campagna da record ora fa paura in un giorno 3678 nuovi positivi mai così tanti da metà aprile e questa è la classifica dei numeri l'incremento giornaliero dei contagi la freccia indica le marche la posizione delle marche che come vedete è a 84 l'incremento rispetto a ieri dei positivi ma diciamo che siamo in una situazione ancora controllabile certamente il trend è sempre in salita e quindi dobbiamo davvero impegnarci a fare la nostra parte il titolo del resto del Carlino raffica di contagi le marche tornano a marzo i casi registrati ieri rappresentano una cifra mai toccata negli ultimi mesi e cicat appuntano nel periodo peggiore della pandemia mentre fortunatamente la situazione però non sembra ancora emergenziale sotto il profilo sanitario a marzo erano questi più o meno i numeri ma erano molto diversi quelli sotto il profilo sanitario quelli che entravano in ospedale più del 50% si sono registrati nell'ascolano 6 invece nell'anconetano abbiamo detto che ieri nella provincia di Pese d'Urbino su 85 positivi 12 soltanto quelli nella provincia di Pese d'Urbino appunto rispetto al passato il sistema sanitario non è ancora sotto stress intanto positiva anche una bambina di Iesi di 8 anni una bambina che negli ultimi giorni non era andata a scuola tra i 7 casi accertati ieri in provincia grafiche di contagi le marche tornano a marzo ma adesso è il sud l'epicentro della paura ieri il sud inteso come l'ascolano appunto ieri sono stati 84 i nuovi casi solo 12 dei quali nella provincia di Pese d'Urbino aumenta di un'unità il numero dei ricoverati quello che è importante ricordare è che adesso che adesso i contagi si la probabilità di contagiarsi rimane più alta in casa sia in casa che a scuola o anche tra gli amici visto che la casella dei contagi domestici continua a essere la più affollata nelle statistiche dell'osservatorio del Gores da segnalare a questo proposito il caso di una famiglia albanese di Valefoglia composta da padre, madre e figlio di 10 anni tutti i risultati positivi che ora si trovano in isolamento contatti stretti anche il Corriere Adriatico contatti stretti scuola aumentano i contagi i ricoveri in ospedale in una settimana nelle marche 329 casi in una settimana ieri i positivi segnalati erano 84 allora sul fronte dell'ospedaliero 5 pazienti in terapia intensiva 1 in semi-intensiva e 30 sono in reparto poi però come dicevamo c'è la buona notizia che riguarda i medici di famiglia o i pediatri hanno dato la loro disponibilità a fare i test il test Covid quindi dal medico di famiglia o dal pediatra questo renderà più fluido ovviamente il lavoro degli ospedali e anche dei drive-in oltre ad assicurare una maggiore capacità di intercettare prima eventuali casi positivi le ultime tendenze mostrano infatti che gli ambienti familiari sono oggi più a rischio e per questo secondo il Ministero della Salute bisogna consentire alle famiglie di provvedere subito al test mettendo a disposizione un fondo già approvato di 235 milioni per portare la diagnostica di primo livello negli studi medici andiamo facciamo un salto sul quotidiano nazionale del resto del Carlino perché perché Conte oggi dice quello che io vi dicevo qualche settimana fa diverse settimane fa le mascherine vanno portate sempre salvo le recezioni e Conte adesso dice tenetele anche con gli amici in casa nuove disposizioni in vigore da oggi il Premier rispetto dice delle regole anche in famiglia protezione ovunque e poi ci sono le multe fino a 1000 euro prorogato lo stato d'emergenza fino al 31 di gennaio depotenziato il ruolo delle regioni potranno varare solo norme più restrittive allora vale la pena velocemente rivedere questi punti allora intanto per chi fa sport e chi ha meno di 6 anni non c'è nessun vincolo per quanto riguarda le mascherine a scuola invece se un bambino è seduto un ragazzo è seduto uno studente è seduto al banco può anche non tenerla la mascherina mentre se si alza va in bagno oppure ci si muove in classe lì va indossata per quanto riguarda i rapporti tra le persone sappiamo la distanza è di un metro fra le due persone questo è importante vanno portati con sé sempre la mascherina in borsa da qualche parte insomma l'importante è tenerlo a portata di mano perché può sempre servire in ufficio non si va o in qualunque altro posto non ci si va non si esce di casa se uno ha 37 e me da 37 e 5 di febbre in su in famiglia sono gli anziani le persone fragili quelle che hanno patologie che vanno tutelate e di conseguenza anche in casa se andate a trovare i nonni mettete tutti le mascherine poi si evitano i baci si evitano gli abbracci si va a fare un saluto si fa due chiede però sempre con le mascherine poi le sanzioni niente sconti multe che vanno dai 400 ai 1000 euro le sanzioni sono identità uguali a quelle previste nei precedenti provvedimenti andiamo avanti Acquaroli Acquaroli ieri in una trasmissione televisiva su Rai News 24 ha detto l'app Immuni io non la scarico serve a poco dunque il governatore aggiunge efficace solo se tutti l'avessero sullo smartphone ma è impossibile la prevenzione vera si fa con un buon coordinamento tra lo Stato e le regioni e non sugli strumenti sono molto attento dice a proposito dei comportamenti ad utilizzare tutte le precauzioni come le mascherine e il distanziamento al giornalista che gli fa notare che se non si incomincia a scaricarla sempre più lontano sarà il traguardo della copertura massima il governatore risponde senza scomporsi beh dice il suo ragionamento è logico ma è logico anche aspettarsi che non tutti la scaricheranno d'altronde non si può costringere il cittadino a farlo pensiamo a un ottantenne che non ha neanche il cellulare ad esempio questo strumento avrebbe una sua efficacia solo se ogni cittadino italiano di ogni età avesse l'app sul proprio smartphone ma siccome sappiamo che non è così non credo che l'app Immuni possa essere uno strumento di prevenzione medico e positiva al Covid la storia sul Corriere Adriatico raccontata questa mattina dalla dottoressa Elenia Silvestri che ha lo studio medico a San Benedetto del Tronto racconta come lei e tutta la sua famiglia compresa la cognata incinta hanno vissuto i tempi difficili dei primi mesi del Covid è stata contagiata lei dai nonni eravamo in sette e tutti appunto con il virus tutto che è in classe poi però il disastro sugli autobus sono stracolmi altro che distanziamenti presto saranno rafforzati i controlli davanti alle scuole ma il vero problema sono i trasporti siamo costretti a stare in piedi gli assembramenti iniziano alla fermata poi sui mezzi c'è il pienone le ipotesi dei ragazzi vanno potenziate le corse dicono e purtroppo c'è spesso gente anche senza mascherina poi c'è una intervista che il Carlino Angelica Panzieri ha realizzato con il presidente di Adria Bus Massimo Benedetti il direttore scusate di Adria Bus Benedetti che dice stiamo continuando a fare modifiche ogni giorno per gestire al meglio la distribuzione dei carichi noi ce la mettiamo tutta e l'abbiamo dimostrato anche con il potenziamento delle corse sia sul versante cattolico e gradare che su quello dell'entroterra qualcuno dice arriveranno anche i controlli delle forze dell'ordine e lui dice benvengano le verifiche da parte delle forze dell'ordine noi già facciamo il possibile con i nostri collaboratori che sull'uso della mascherina sono molto severi purtroppo però spesso accade che i ragazzi la tengono solo per entrare sui mezzi e poi durante il tragitto se la tolgono mascherine il blitz all'ora dell'aperitivo a Senigallia i vigili in via Carducci dove la gente affolla il locale all'aperto in corso 2 giugno i carabinieri ammoniscono una signora adesso lo ricordiamo obbligatoria sempre in piazza del Duca un 23enne in preda ai fumi dell'alcol non voleva invece indossarla andiamo sulla pagina adesso 5 del Corriere influenza parliamo di influenza non di covid via i vaccini dal 15 a disposizione 421 mila dosi ne mancano però ancora 110 mila nelle marche priorità a chi ha più di 65 anni ai pazienti più fragili e agli operatori sanitari profilassi gratuite anche per gli adulti quindi gratis questo vaccino per chi è nella fascia d'età tra i 60 e i 64 anni e poi anche i bambini dai 6 mesi ai 6 anni in questi giorni si sta provvedendo come abbiamo già detto anche noi più volte alla distribuzione l'ulteriore richiesta è stata trasmessa ulteriore richiesta di vaccini è stata trasmessa al Ministero della Salute da controllare febbre e tosse attenti ai sintomi i fattori fondamentali attraverso i quali riconosciamo il coronavirus rispetto ad una qualsiasi influenza ferma restando che il covid appartiene comunque alla numerosa famiglia dei virus risperatori sono tre la febbre che non scende nonostante gli antipiretici quindi se voi avete la febbre prendete la tachipirina e non vi scende lì c'è qualcosa che non va le difficoltà respiratorie cioè vuol dire che avete probabilmente il virus il covid le difficoltà respiratorie la tosse stizzosa e secca a questi poi vanno aggiunti sintomi minori nel caso del coronavirus si intendono essenzialmente il mal di gola il mal di testa i brividi per tutto il colpo la nausea vomito di area insomma più o meno anche se uno prende l'influenza siamo lì però ecco poi alla fine ci vuole il test c'è poco da fare i sintomi sono spesso sono simili andiamo a vedere velocemente la pagina della Valmetauro mio figlio è il raffreddore siamo abbandonati a casa questo siamo sulla pagina del Corriere Adriatico di Fossombrone Roberto Giungi questa mattina racconta di questa storia di questi genitori di Fossombrone che sono in grosse difficoltà e che chiedono un immediato interessamento della regione delle autorità sanitarie per i propri figli che vanno alla scuola primaria che sono rimasti a casa a titolo precauzionale perché hanno il raffreddore e qualche colpo di tosse senza che poi gli stessi possano essere riammessi a scuola quindi come vedete anche qui tosse raffreddore è covid non è covid comunque sia in questi giorni dove è caldo freddo freddo e caldo è facile in un periodo senza il covid questo tosse raffreddore sono cose normali però in questo momento chiaro in una situazione come questa bisogna subito verificare se c'è la positività al covid oppure no il pediatra non lo visita dice per certificare l'assenza da scuola manca la richiesta del tampone ecco perché la buona notizia prima dicevo che se dovessero fare questi questi tamponi queste queste verifiche già negli ambulatori dei medici di base o dei pediatri sarebbe già un'ottima soluzione cambiamo argomento adesso andiamo a vedere torniamo sempre sul Carlino pressioni per togliere la multa al figlio l'ex questore laureo l'ha condannato a due anni il dirigente era accusato a Rimini per tentata induzione a fa e falso un agente della stradale aveva registrato le conversazioni la difesa è mai spinto nessuno è solo un equivoco prosciolto comunque dal reato di peculato sulla pagina 25 invece ecco la fotografia adesso forse molti la ricorderanno la fotografia di questo ragazzo Kevin che è stato ritrovato era in Germania il 21enne gradarese allontanatosi da una comunità ad Urbino aveva trovato lavoro come lavapiatti tentato omicidio arrestato un diciottenne uno studente riminese in carcere per l'accoltellamento di sabato sera a Pesaro rifiutato ad una festa la polizia si è presentata ieri sera a casa sua lunedì l'interrogatorio sei siti ora valutati per il biodigestore gelo tra Marche Multiservizi Aset rinviato il tavolo tecnico in provincia l'azienda pesarese scopre le sue carte ipotesi a Pesaro Montellabate e Vallefoglia a fronte delle tre ipotesi proposte fanesi e questo è un articolo che troverete sul Corriere Adriatico di questa mattina nella collocazione il Corriere Pubblica l'area individuata nella piana di Talacchio per realizzare quest'opera provinciale di Marche Multiservizi la zona risulta compresa anche tra Padiglione Case Bernardi e il Foglia il Carlino di gestore Marche Multiservizi stoppa i fanesi salta l'incontro in provincia ma l'azienda mette in chiaro facciamo da soli e i siti possibili sono tre Montellabate Pesaro e Vallefoglia avanti con la società Green Factory detenuta al 100% da Marche Multiservizi rifiuti indifferenziati svolte in quattro quartieri sempre a Pesaro saranno raccolti porta a porta a Borgo Santa Maria Pozzo Alto Case Bruciate e Tre Ponti polveri sottili anomale a Bellocchi di Fano serve un supplemento di indagine nuovo incarico per individuare le fonti di PM10 inquinamento non censito nella zona industriale dunque il monitoraggio ambientale della zona industriale di Bellocchi costerà 20.000 euro in più dai rilievi commissionati dal Comune di Fano all'Università di Urbino risulta infatti che gli elevati livelli di concentrazione delle PM10 le micidiali polveri sottili misurati dalla centrale dei Bellocchi non trovano giustificazioni con le emissioni autoveicolari e industriali autorizzate né tantomeno inserendo nel modello i valori restituiti dagli autocontrolli delle ditte stesse dunque necessitano di ulteriori indagini in congruenze dei rilievi con le emissioni autorizzate necessarie altre misurazioni ad hoc sulla pagina di Fano invece del resto del Carlino si parla delle bollette dei rifiuti maxi bollette dei rifiuti stangate e tari la protesta si allarga ancora Papalini di Confindustria dice sulle circa 80 cartelle analizzate abbiamo trovato una ventina di casi dove sono state riscontrate delle anomalie parliamo di somme solo per questi casi superiori al milione di euro ieri Papalini è intervenuto anche al nostro telegiornale a occhio alla notizia e appunto diceva la stessa cosa insomma alla fine a conti fatti si tratta di bollette per un importo che sale che si aggira intorno anzi supera il milione di euro la raccolta dei rifiuti diventa una gara questa è la notizia che invece troverete di taglio basso sempre sulla pagina di Fano del Carlino giunta e rimpasto tempi più lunghi slitta tutto allo stato attuale l'unica certezza sembra essere l'ingresso nell'esecutivo di Barbara Brunori dunque il rimpasto di giunta che il sindaco Massimo Seri aveva preannunciato con eccessivo ottimismo entro la giornata di ieri salta slitta se ne riparlerà venerdì se non addirittura la prossima settimana allo stato attuale l'unica certezza sembra essere che l'ingresso di Barbara Brunori consigliere comunale dentro la giunta invece incerta l'attribuzione delle deleghe la più appetibile tra quelle lasciate libere da Caterina del Bianco che si è dimessa perché abbiamo detto che si dedicherà alla scuola è quella più pesante la delega della cultura sembra che il PD abbia chiesto che sia di nuovo attribuita come nella prima legislatura ad uno dei suoi assessori e c'è chi fa il nome di Sara Cucchiarini lo stesso sindaco conferma che il PD ci sta facendo un pensierino personalmente aggiunge Seri non mi interessa l'appartenenza politica l'importante è che la giunta funzioni il primo cittadino dunque smentisce chi pensa che possa tenere per sé la cultura quindi non terrà Massimo Seri la cultura la delega della cultura per sé una delizia tutta falese ecco i dolci di Vitruvio dalla pizza al dolce nel nome di Vitruvio l'architetto romano autore della famosa basilica di cui fanno se cercano i resti diventa una dolcezza grazie al maestro pasticcere Stefano Ceresani che ha accolto l'invito del presidente del centro studio di Vitruviani di creare un dolcetto appunto dedicato a Vitruvio nel PD siamo alla politica regionale nel PD la spaccatura è servita sul futuro della segreteria la parola passa la direzione anche ieri fumata nera Gostoli dice costituente o si vada all'assemblea regionale dunque sono sempre di più quelli che dicono no al commissariamento da Roma del partito democratico nelle marche la prossima settimana potrebbe decidersi il destino del leader intanto l'intervista Mangialardi inutile drammatizzare ora un confronto interno il capogruppo DEM in consiglio regionale è convinto il commissariamento è di ostacolo alla ricostruzione l'Udc intanto sogna la presidenza del consiglio Acquaroli verso la stretta per la giunta nelle trattative spunta anche la richiesta di una posizione di prestigio per l'osimano Dino Latini Daniela Tisi e Chiara Biondi in corsa per un posto nell'esecutivo come quota rosa nel puzzle da comporre tre assessori per la Lega due a Fratelli d'Italia e uno agli azzurri da Pesaro capo dei vigili che pasticcio candidati rimandati a casa prova e sospesa per l'individuazione del comandante e bando rifatto erano due gli aspiranti non solo Lamuzzini ma anche uno che arriva da fuori città c'era un errore nella figura richiesta non un dirigente ma un incarico di alta specializzazione andiamo ancora avanti con la rassegna stampa da Urbino Maxi Rissa in piazza quattro denunciati in un'indagine dei carabinieri sui tafferugli del 18 settembre nei guai giovanissimi d'età compresa tra i 19 e i 22 anni risiedono tra Pesaro Fano e Urbino la scintilla una parola di troppo su una ragazza e la chiusura di alcuni locali sesso con minori gli imputati negano anche le intercettazioni andiamo a Pietrarubbia Orchi alla sbarra ascoltato anche il maresciallo Olivetti è il nuovo sindaco di Senigallia si occuperà di turismo l'urbanistica va invece a Cameruccio ipotesi Pizzi per la carica di vice sindaco Campagnolo potrebbe occuparsi anche di mobilità siamo alla pagina dello sport ieri il Fano ha pareggiato come abbiamo visto è detto all'inizio della rassegna 0 a 0 a Carpi il Fano imbavaglia il Carpi sfiora l'impresa Granata aggrediscono alti più quotati avversari con barbuti vicino al gol a più riprese specie nel primo tempo è mancato solo il gol dice l'allenatore Alessandrini bravi a imporre il nostro gioco meritavamo di più poi le pagelle Marino e De Vito ok questo invece è il corriere Adriatico mi conforta la prestazione Alessandrini capitalizza il punto centrato del Fano raccolto meno di quanto avremmo meritato ma insomma anche il presidente Fatò Fidani concorda le occasioni da gol più nitide le abbiamo avute noi peccato ci è mancato soltanto il gol ma sono felice di non averlo preso il portiere Granata Sameli contento per la prima partita senza subire reti e con questo chiudiamo qui la nostra pagina informativa la rassegna stampa torna domani alle 7 noi questa sera invece ci rivedremo se lo vorrete alle 20.30 con occhio alla notizia che è il telegiornale di Fano TV a voi tutti l'augurio di una buona giornata Grazie a tutti